ciao ragazzi e benvenuti a tutti in un nuovo video ragazzi questo sarà un video molto molto caliente perché parleremo di un problema delle bms vai intro ok ragazzi allora oggi video sarà un po lungo perché perché dobbiamo riflettere e voglio farvi fare attenzione ai vostri impianti attenzione e allora le bms cos'è una bms la bms quel componente elettrico elettronico che ti permette di mantenere sotto controllo protetta sempre ottima come diciamo stato di carica e livellata il tuo pacco batterie ok una bms non è altro che una parte di potenza una parte di bilanciamento la parte di bilanciamento al compito di bilanciare le celle ok cioè leva a caricare scaricare singolarmente nel tempo per far arrivare tutti quasi alla stessa soglia di voltaggio perché ragazzi perché un pacco batterie con celle serie deve essere sempre bilanciato le celle tutte devono essere tutte allo stesso valore di voltaggio per non avere una cella più carica più scarica perché ne risentono per quanto riguarda poi la qualità totale del pacco batterie e anche le prestazioni oltre che la vita del pacco batterie ragazzi allora ci sono dei problemi il 99,9 per cento delle bms possono avere questo problema il problema che io ho stesso ho riscontrato qualche tempo fa perché ragazzi perché le bms come ti dicevano una parte di bilanciamento una parte di potenza ma hanno anche internamente una parte di logica questa parte di logica è quella che nel concreto e si occupa a attaccare staccare i mosfet della bms cosa sono i mosfet i mosfet non sono altro che degli interruttori veri e propri che ti permettono di bloccare il flusso di corrente in arrivo dal regolatore di carica quando per esempio la batteria è già carica al massimo perciò quando la bms sente che la batteria è carica al massimo blocca non fa entrare più alimentazione o quando la batteria è molto scarica che cosa fa fa entrare l'alimentazione per la ricarica o ancora se è troppo scarica cosa fa blocca tutto e non permette al inverter per esempio di continuare a scaricare la batteria perciò il problema che io e tantissimi altri stanno avendo in questi mesi è causato da dei problemi apparentemente di logica perché appunto è la logica che fa questi brutti scherzi vi descrivo e vi racconto il mio problema nello specifico ma è un problema che poi si ripete per tutti ok chi prima chi dopo si ripeterà ragazzi a tutti ma non vi preoccupate perché alla fine vi dirò cosa sto facendo grazie a da lì bms allora ragazzi qualche tempo fa io stavo bello comodo sul divano guardare la tv luce accese niente di pesante ecco come carichi sull'impianto come sapete io un impianto da due inverter totale qui 11 kilowatt come inverter sono due in parallelo batteria 15 kilowatt ora live più 4 da 295 ampere ora una bms da 150 per della da lì bene questo pomeriggio all'imbrunire quando ormai i pannelli non producevano più è iniziato tutto ma cosa boom mi si stacca la luce per un paio di millesimi di secondo per poi ritornare nello stesso tempo mi affaccio nel vano tecnico e sento bip 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 ok salgo vado a controllare cosa era successo l'inverter erano in errore errore se non sbaglio errore 14 comunque un problema per per la batteria ecco un problema causato dalla batteria mio malgrado ma cosa è successo non l'avevo capito non l'ho capito effettivamente neanche oggi dopo mesi non si è ancora capito il perché succedano questi disguidi con le bms però ragazzi vi racconto dopo un paio di giorni sempre all'imbrunire quando i pannelli non producono più perciò quando l'alimentazione è totalmente caricata sulla bms di nuovo si stacca tutto interviene la ts giustamente e mi fa alimentare il tutto con il contatore bene siamo a due cambio bms perché io subito pensavo detto io che cos'è che mi stacca la bms cioè se l'inverter lavora bene la batteria o misura di voltaggi ed era buona cosa doveva essere la bms ho tolto la bms messa un'altra nuova di pacca una due tre forse settimane boom di nuovo staccata sola senza preavvisi senza motivo non è che dice che c'era un sovraccarico e se ne andate in protezione no ragazzi non ce n'era sovraccarico non c'era nulla ma si è staccata ma va bene che poi si stacca e dopo poco si riattacca cioè non è che la bms rotta bruciata no ragazzi è proprio un problema come dicevamo di logica perché che cosa fa la logica fa staccare il mosfet di scarica staccandosi il mosfet di scarica l'inverter non ha più alimentazione dalla batteria perciò che cosa deve fare se ne va in errore e si spegne tutto bene qualche altro giorno di pausa non è più successo nulla vado ad aprire l'applicazione da lì bms cambio un setting nei parametri della batteria un voltaggio mi pare che era voltaggio massimo della batteria della singola cella clicco invia sul sullo smartphone cioè quando io clicco mi stacca tutto questa è la seconda bms beh in tutto questo tempo io sempre in contatto con dalì ok ho spiegato dell'accaduto loro mi hanno detto che potenzialmente era un problema di 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 logica di firmware di qualcosa che interpretava male qualche segnale e mi staccava il mosfet cosa che non dovrebbe mai accadere a meno che in casi eccezionali deve staccare il mosfet va bene in contatto con dalì proviamo a fare qualche prova qualche test ma alla fine per un paio di giorni tutto va bene ma liscio e poi di nuovo modifico un parametro e mi stacca la bms basta mi sono girate le scatole non ci ho più provato non ho più aperto l'app della della bms non avendo più bms ho detto io basta non la proprio aspetto che mi inviano perché poi eravamo rimasti che mi inviavano a un'altra bms di ricambio benissimo nel frattempo mi sono fornito tramite un amico che aveva un'altra bms simile ho cambiato anche questa bms però aspetta non corriamo solo dopo che si sono bruciati gli inverter ragazzi dopo qualche distacco i miei due inverter in parallelo si sono bruciati riassunto si sono bruciati si è bruciata qualche parte della scheda una forse una delle due board forse sono riuscito a capire cosa c'era di bruciato perché poi a prima vista primo impatto smontando gli inverter erano tutte perfette componenti non scoppiati nessuna vista bruciata lì sicuramente c'è stato semplicemente una fusione di un mosfet e nel concreto in una b in una board sono stati due i mosfet che ho dovuto sostituire e in città da me non sapevano neanche cosa fossero questi mosfet ragazzi e dice sono e sono dei mosfet molto grossi noi non trattiamo questi mosfet va bene il primo negozio secondo negozio il terzo negozio niente ragazzi non c'è stata cosa di trovare questi mosfet li ho dovuti prendere su aliexpress presi su aliexpress giustamente quella ventina di giorni sono passati per arrivare e oggi ci sono gli saldati ma ragazzi prima di questi venti giorni grazie a pov mr io sono riuscito ad avere due nuove schede di ricambio due board ragazzi nuove nuove di pacca vedrete comunque qui dietro di me le foto allora le board ragazzi sono simili sempre 5.5 kilowatt però giustamente la seconda il modello più nuovo i miei originali erano un modello più vecchiotto infatti montavano condensatori di quelli grandi i transistor mosfet erano tutti grandi ecco anche i transistor stessi erano di quelli grandi invece ora nel modello nuovo di board sembra vuota cioè quando io l'ho ricevuto ho visto quella scheda oltre al colore quella blu e la scheda vecchia quella verde la scheda nuova tutta vuota detto io ma ma tutti i componenti dove sono ragazzi sono tutti smd transistor smd condensatori smd resistori di potenza anche in smd comunque tutto smd hanno ridisegnato la scheda la 2.0 mettendo tutti i componenti in smd grazie a questo hanno potuto fare anche altre variazioni la posizione dei due avvolgimenti di di toroidi sono stati messi uno a fianco all'altro invece prima erano 1 1 frontale all'altro ora invece sono così e poi la posizione di altre altre gruppi di componenti è stata cambiata comunque ragazzi in linea generale è la stessa scheda madre quello che è cambiato appunto è che la seconda è con componentistica smd poi c'era un connettore che io non ho potuto connettere nella seconda board perché nella prima non c'era e io ad oggi non ho capito quel connettore cos'era comunque io l'ho lasciato disconnesso e tutto sta funzionando un'altra variazione tra le due board è stata quella che nella prima board quello originale la prima vecchia c'era il fusibile integrato nella seconda il fusibile non l'hanno messo e io questo glielo ho detto ragazzi parlando con i tecnici e gli ingegneri di pov mr ragazzi come è possibile che in questa scheda madre non ci sia un fusibile di protezione cosa funge da protezione in questa scheda madre comunque tra le tante discussioni fatte ho capito che hanno differenti tipi di protezione interna mi hanno spedito come vedrai tutto bello imballato molto anche veloci come spedizione sempre davvero soddisfacenti ritorniamo al problema come è nato questo problema il problema ragazzi è nato dalla bms tutti noi abbiamo nei nostri impianti le bms sia che sia da lì che sia ai bms che siano qualsiasi bms e può distaccare il mosfet riuscita distaccando il mosfet riuscita anche senza che i pannelli fossero connessi perché tanti di voi dicono che questo problema sia quando i pannelli sono connessi però ragazzi il mio problema non si è posto quando i pannelli producevano il mio problema è stato e si è ripetuto tante volte svariate volte quando i pannelli non erano in funzione perché quando i pannelli sono in funzione l'inverter la bms lavorano differentemente nel concreto l'inverter se c'è i pannelli che lavorano la batteria la bypass perciò non richiede alcuna corrente detto questo ragazzi andiamo al suono oggi insieme anche a da lì perché poi giustamente ho contattato da lì ragazzi qua è successo un problema che poi erano comunque sempre in erano sempre aggiornati ecco ci aggiornavamo giornalmente e anche oggi ci aggiorniamo giornalmente ho raccontato tutto spiegato tutto mandato dei video delle foto comunque alla fine dei conti oggi io continuo a produrre sono sempre riuscito a produrre quasi per tutto il periodo grazie a un terzo inverter che avevo l'ho montato e ho utilizzato solo quello però ragazzi ultimamente anche un'altra bms mi stava iniziando andare lo stesso problema non era arrivata ancora difettare perché lo step ragazzi è così prima difetta da sola stacca da sola poi stacca quando clicchi anche sull'app io mi sono fermato da nel primo step quando stacca da sola ok random e ho bypassato l'impianto per sicurezza perché non volevo perdere un altro inverter anche se ragazzi come già detto io i miei inverter attualmente ce li ho entrambi perché 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 ho sostituito le schede madre giustamente ragazzi un lavoro assurdo nello smontaggio nel riassemblaggio di tutte le componenti perché non c'è solo la scheda madre ma c'è anche la scheda parallela ci sono tante altre schede più piccole quella di comunicazione quella di appunto proprio parallela dove vai a mettere i cavi ethernet che vanno a comunicare comunque un casino ragazzi viti controviti è un casino un casino comunque un paio d'ore e ce l'ho fatta assemblati entrambi provati funzionano alla grande senza nessun problema però ragazzi ora resta sempre il punto interrogativo bms nel frattempo da lì mi ha dato due bms da 250 ampere e insieme anche grazie agli ingegneri stiamo studiando una soluzione e un firmware nuovo che possa permettere all'inverter di lavorare sempre perché a detta di un ingegnere da lì il tutto è successo per delle correnti inverse delle potenti correnti inverse che hanno colpito gli inverter quando appunto la bms staccava però quello che io ho detto a loro ragazzi queste bms non devono staccare mai devono staccare i mosfet sole ed esclusivamente se davvero c'è un pericolo ma quando mi staccava me la bms ragazzi pericoli non ce n'era perciò ora cosa stiamo facendo gli ingegneri da lì a circa una settimana che lavorano a un nuovo firmware siamo quasi arrivati a mettere fuori questo firmware è un firmware per chi come me utilizza inverter ibridi perciò loro mi hanno detto che come hanno programmato il tutto non dovrebbe più esserci questo problema voi mi raccomando restate sempre aggiornati perché vi dirò nel concreto quando sarà disponibile il firmware potrà essere installato nella 250 ampere però ho chiesto anche che sia realizzato compatibile alla 150 ampere però ragazzi anche per questo dipende perché mi hanno detto che le bms hanno dei chip differenti tante volte capita che non sia compatibile ok perciò ancora non è un firmware per tutti ok per il momento lo fanno per me lo monto io lo installo io sul mio testo io faccio la cavia io povmr sa anche di questa variante sa anche di questa collaborazione con da lì loro si conoscono anche stiamo mandando avanti tutto questo perché ragazzi il problema non è è solo delle da lì ok e per tutte le bms e online ho visto video di altri creator che avevano pacchi batterie con bms di marche differenti ma tutte hanno avuto questi blocchi improvvisi e hanno dato problemi agli inverter chi più chi meno io ho bruciato due inverter pazienza uno comunque l'ho riparato o quasi l'altro non ho avuto il tempo ancora di metterci mani e la board ancora è lì da parte vediamo quando riuscirò a ripararlo perciò ragazzi restate connessi vi darò informazioni quando arriverà il firmware nuovo per tutti voi che avete come me un impianto off grid ragazzi questa è l'unica chance per evitare problemi e vi ripeto nessun altro costruttore sta andando a fare queste migliorazioni tutto questo perché perché fox sta facendo la cavia perché fox sta rompendo le scatole a tutti speriamo che vada tutto bene e se tutto va bene ragazzi non avremo mai più problemi negli impianti off grid ragazzi per questo video è tutto ciao belli al prossimo video grazie a tutti